Sara Rozzotto è stata uccisa a Pordenone sull'A28 insieme alla cugina Jessica Fragasso mentre era nella sua auto il 30 gennaio 2022 a travolgerla un'auto a folle velocità a 180 km orari guidata da Dmitry Treykov. Sara aveva 26 anni ed era mamma di due bimbe che erano in auto con lei e che per fortuna sono sopravvissute. La sua vita, secondo la compagnia assicurativa dell'uomo che l'ha travolta e uccisa vale meno di 30.000 euro. Una cifra vergognosa e inaccettabile commenta il legale dei parenti della vittima. Faremo una segnalazione all'ISVAP.